Ammonta a circa un miliardo di euro il maggiore disavanzo che la regione siciliana deve gestire anche se la cifra è ancora al vaglio della Corte dei Conti, che sta esaminando il rendiconto dell'anno scorso e su cui si dovrebbe esprimere entro la metà di ottobre. Stando a questi numeri, il governo regionale potrebbe valutare il blocco della spesa da qui alla fine dell'anno. Al momento il disavanzo definitivo accertato dalla regione siciliana è pari a 7 miliardi e 300 milioni di euro, un miliardo in più rispetto a quello dell'anno scorso. Dei 7 miliardi e 300 milioni di euro, 6 miliardi e 286 milioni di euro sono stati spalmati in gran parte nei bilanci dei prossimi 30 anni. Rimane un miliardo di euro. Il governo musumeci aspetta la pronuncia della Corte dei Conti per stabilire come gestire questo buco, anche se al Presidente il termine buco non piace. Non c'è un buco, c'è un disavanzo di 7 miliardi e 300 milioni che si è accumulato per una serie di errori compiuti negli ultimi 30 anni o almeno in 30 esercizi finanziari. Poteva questa anomalia essere corretta nel 2015, noi non eravamo al governo quell'anno, lo Stato consentiva di poter in parte pianificare e quindi spalmare quella triste situazione che si era evidenziata e chi doveva farlo non l'ha fatto. Adesso le responsabilità naturalmente di risanare il bilancio cadono sul mio governo, nel senso che siamo noi chiamati a mettere ordine in una materia che ha registrato responsabilità di almeno tre decenni.